Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a realizzare questa simpatica ghirlanda colorata all'uncinetto. Siamo nel periodo del carnevale e allora ho pensato a un'idea per decorare la nostra casa che dia un tocco di handmade. Chiaramente possiamo usare la ghirlanda in tantissime altre occasioni per esempio per abelire o decorare una sala dove si festeggia un compleanno o altra festa. In estate se abbiamo un giardino o una terrazza dove organizziamo delle grigliate con i nostri amici per dare un colore in più alla nostra serata. Possiamo dare via libera alla nostra fantasia e usare tutti i colori che vogliamo e fare lungo la nostra ghirlanda quanto vogliamo noi. Il bello di questo progetto è anche che possiamo utilizzare tutti quei filati avanzati da progetti precedenti perché per ogni cerchio abbiamo bisogno di pochissimo filato. Adesso andiamo a vedere cosa ci occorre e possiamo partire con il nostro tutorial. Per lavorare la nostra ghirlanda ci procuriamo un po' di filato appunto avanzato perché ci serve veramente pochissimo di vari colori. Il mio filato è un 100% cotone. L'uncinetto nel mio caso è l'uncinetto del numero 3 ci serve anche una forbice e un ago da lana. Prendiamo allora il nostro filato, l'uncinetto, come prima cosa andiamo a fare un capietto iniziale e poi caricare un totale di 35 catenelle. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, fino a 35 e poi ci rivediamo. Una volta caricate le nostre 35 catenelle mettiamo le catenelle sul dritto, le facciamo scorrere attraverso l'indice e il pollice, cerchiamo di stare attenti che le catenelle non si girano. In questo modo arrivati alla fine entriamo nella prima catenella e andiamo a fare un punto bassissimo. Passiamo attraverso la catenella e attraverso l'asola che abbiamo sull'uncinetto e abbiamo creato così un cerchio. Adesso andiamo a fare una catenella e rientriamo nello stesso punto dove siamo entrati per fare il punto bassissimo. Prima carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo, peschiamo il filo, abbiamo tre asole, prendiamo il filo e chiudiamo tutte e tre le asole insieme e abbiamo fatto una mezza maglia alta. Questo filo qua cerchiamo di lavorarci su qualche maglia così lo nascondiamo in quel modo, prendiamo il filo sull'uncinetto e entriamo nella prossima catenella, vedete io mi lavoro anche il filo e andiamo a fare la prossima mezza maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo nella prossima catenella libera e facciamo la prossima mezza maglia alta. Filo sull'uncinetto, nella prossima catenella libera e una mezza maglia alta. In questo primo giro faremo una mezza maglia alta in ogni catenella una mezza maglia alta in ogni catenella e poi ci vediamo alla fine del giro. Sono arrivata al termine del giro, entro nella prima mezza maglia alta e faccio un punto bassissimo. Abbiamo così terminato il primo giro. Adesso andiamo a fare una catenella, rientriamo nello stesso punto dove siamo entrati per fare il punto bassissimo e faccio un punto basso. Entro nel prossimo punto libero e faccio un punto basso. In questo giro faremo un punto basso sopra ogni mezza maglia alta del giro sottostante. Un punto basso in ogni punto disponibile. E questo fino al termine del giro dove ci rivediamo. Ho terminato anche questo giro di punti bassi che poi era l'ultimo giro e dopo aver fatto l'ultimo punto basso non entriamo nel primo punto e facciamo un punto bassissimo ma allunghiamo l'asola, tagliamo il nostro filo, lo sfiliamo e ci procuriamo adesso l'ago da lana. Andiamo a fare l'asola di chiusura, per fare appunto una chiusura invisibile. Allora qua abbiamo il nostro primo punto basso, questo lo saltiamo, entriamo nelle due asole del secondo punto basso, facciamo passare ago e filo, poi tiriamo delicatamente e come potete vedere abbiamo fatto una chiusura invisibile. Adesso all'interno andiamo a nascondere questo filo facendolo passare in qualche maglia e poi il filo in eccesso lo possiamo tagliare. Ed ecco pronto qua il nostro primo cerchio che mettiamo da parte un attimo, adesso ci prendiamo un altro colore, nel mio caso è il colore giallo e ripetiamo prima facciamo un capietto iniziale e poi andiamo a caricare 35 catenelle. Una, due, tre, quattro, cinque, fino a 35. Allora caricate le nostre 35 catenelle che sono di nuovo la base per il secondo cerchio, andiamo a unire queste catenelle al primo cerchio che abbiamo già realizzato e come lo facciamo? Inseriamo le catenelle all'interno del cerchio in questo modo, cerchiamo di avere di nuovo le catenelle tutte sul dritto e poi entriamo nella prima catenella e andiamo a fare di nuovo un punto bassissimo così abbiamo unito i due cerchi. Adesso faremo la stessa cosa su queste catenelle che abbiamo fatto sul primo cerchio, andiamo a fare prima una catenella, filo sull'uncinetto, rientriamo nella stessa catenella dove siamo entrati per fare il punto bassissimo e facciamo la nostra prima mezza maglia alta. In questo giro, come vi ricordate, faremo una mezza maglia alta in ogni catenella disponibile fino al termine del giro dove chiuderemo il giro con un punto bassissimo nella prima mezza maglia alta, faremo una catenella e poi il giro di punti bassi, alla fine del giro dei punti bassi chiuderemo con l'asola di chiusura e avremo fatto il nostro secondo cerchio, poi andiamo a fare altre 35 catenelle con un altro colore e uniremo nello stesso modo e così man mano la nostra ghirlanda crescerà in lunghezza. Allora io questa ghirlanda qua che vi presento oggi l'ho fatta tutta con i cerchi che hanno la base con le 35 catenelle, però c'è anche una seconda versione, potete fare i cerchi di varie misure, per esempio qua ho fatto 35 catenelle, qua ne ho fatte solo 20, qua ne ho fatti 25, qua 22, così avete un'idea diversa di una ghirlanda diversa o tutta con la stessa misura o appunto quella con misure diverse. Questo è stato un video molto corto, spero comunque che vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un like, abbonatevi al mio canale e ci vediamo al prossimo tutorial, ciao!